Ciao ragazzi, siamo qua con Fabio Tessi, membro del Johnny Roger Team, 38esimo classificato all'ultimo CSD Limi, con 8 vittorie, una patta e due sconfitte. Che mazzo hai giocato Fabio? Cosmo. Ok, vediamo la sua lista, vediamo cosa hai giocato. Allora, ho giocato 3 Farngar, 3 Slip Rider, 2 Goodwitch, 2 Forerunner, 2 Onesti, una Gostogre, Mono Cyber Drago contro Clifford e Tripla Mirmedeo. Ok, ci vuoi spiegare un paio di... Vabbè, brevemente, Tripla Mirmedeo perché questo mazzo a turno 0 non ha start, quindi se te resti solo carte... Nel caso parta tu per primo. Sì, se te resti solo carte e basta, invece almeno con la Mirmedeo la evochi e aggiungi il 2 Onesti. Invece con solo 2 Goodwitch e 2 Forerunner come ti ritrovato bene? Sì, sì, molto bene perché Forerunner li trovo chiodi in mano per la maggior parte delle volte. E riesci a tuttolarli con la Farngar quando ti servono. Perfetto, passiamo alla Magia, 3 Cosmo Town, 3 Teleport, doppio Dark Call, il Rai Jackie, doppio Tifone e il Mono Shrink. Ok, Mono Shrink... Vabbè, spiego. Allora, Mono Shrink perché? Allora, contro Shadow il Construct è difficile da togliere e quindi con Shrink almeno diventa 1.400 e Farngar può tirarlo giù. E contro... Ma in generale contro i ciccioni è buono. Sì, contro Necroz anche per i Valkyrus che non sai come tirarlo. Ok. Ok, va bene. Passiamo alle trappole. Passiamo alle trappole. Gioco doppia Mirror, doppia Fiendish, Mono Warning, Mono TT, Mono Vanity, Mono Bottomless, Mono Traptrick Strapol e doppia Loid. Ok, quindi questo è per quanto riguarda le trappole e ci sono quattro buchi trappola per rimirrere. Ok, perfetto. Passiamo all'extra. All'extra. Allora l'extra, Mono Chimilatic Fortress contro Clifford. Per fondere la tower. Così di fondere la tower. Mono Dweller, Mono Castle, Mono Tolemaio, Mono Delteros. Da mettere sotto al Tolemaio, Mono Diamond, Mono Durendal, Mono Pleiades. Poi abbiamo Mono Naturia Bestia, Ancient Fairy, Pixie, Goyo, Black Rose, Cremisi e Scrap Dragon. Ok, quante volte hai utilizzato i sincro? Poche volte, solo un paio di volte Lancent e una volta Naturia Bestia. Ok, va bene. Anche per quante volte sei riuscito a tenere l'e-mail nella Ghost Ogre? Pochissime volte. Pochissime volte. Poi il Side, Retaliating, Doppio Max, Doppio Flining, Doppio Agostogra, Contro Clifford, Ignite. Mono Cyber Dragon contro Clifford. Ok, per la tower. Mono Ricopertura per fare la Naturia Bestia di Side, perché se parto con Mirmelè o magari ho il Teleport, faccio quella e posso fare la Bestia che contro Clifford è fortissima. E non solo? Sì, va bene, contro altri anche che fanno le magie. Il terzo Typhoon è Tifone Trappola contro Ignite, Clifford e anche magari contro Necroz. Ok, perfetto. E questa è la tua lista che hai giocato? Qualche cambiamento che avresti voluto fare adesso a fine torneo? Avrei tolto le Ghost Ogre, che secondo me sono state inutili, non le ho mai messe, di Side, anzi ho tolto sempre quella di me. Ok, perfetto. Questo è tutto, la decklist, deckprofile di Fabio Dessi e ricordiamo Aghi ci guarda. Origiologi.